Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che fino al 18 giugno è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPILI rampa di accesso chiusa per lavori in entrata a Livorno Porto in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia per lavori in direzione sud entrata chiusa a Rosignano Marittimo e svincolo chiuso a Gavorrano. In direzione nord svincolo chiuso a Rio Torto. Per la viabilità cittadina Firenze da oggi al via i lavori di risanamento occupando una corsia per volta di via senese tra Porta Romana e le due strade. Revocata la corsia preferenziale. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!